E' lutto cittadino nel comune di Fossombrone. La giunta del sindaco Berloni esterna così dolore e sconcerto per l'omicidio di Marina Luzzi che da ieri ha stravolto la cittadina metaurense. Sconvolta per quel gesto di Andrea Marchionni recluso da ieri nel carcere di Villa Fastigi dopo che poche ore prima si era presentato alla caserma dei carabinieri di Fossombrone confessando di aver sparato e ucciso Marina, compagna del fratello Enrico. I carabinieri hanno chiarificato la dinamica del delitto mentre resta un enigma il movente che solo gli interrogatori ad Andrea Marchionni potranno dipanare. La scena del crimine è stata quella della villetta bifamiliare in zona Piancerreto in cui i due fratelli Marchionni vivono da vicini di casa. In quel martedì di luglio però il 47enne Andrea da incensurato si trasforma in killer decidendo di scendere dalla sua abitazione al piano inferiore e sparare in testa Marina 40 anni rimasta sola in casa mentre Enrico aveva il giorno libero dal lavoro da pizzaiolo a ristorante Mancinelli nel centro di Fossombrone. Una mattinata libera in cui Enrico aveva portato la figlia della coppia di appena due anni e mezzo a svagarsi in una piscina non lontana da casa. Uno sparo udito dallo stesso Enrico che è rientrato in casa e assistito alla scena spiazzante della compagna a terra esanime e morta sul colpo. Negli stessi istanti in cui ha chiamato il 118 il fratello Andrea andava a costituirsi. La procura di Urbino indaga ora per capire cosa abbia mosso il gesto estremo di un uomo descritto come estremamente schivo e introverso con poche amicizie, falegnam disoccupato ma con una passione intensa per la pittura. Soprattutto Marchionni risulta strano i servizi sanitari per cure o problemi psicologici. D'altronde deteneva regolarmente quella pistola Beretta come arma per competizioni sportive. Ora invece dovrà rispondere di omicidio volontario di Marina che lascia orfana di mamma una bambina piccola e lascia in un dolore lancinante il compagno, la madre e una sorella gemella.